ciao a tutti quest'oggi voglio proporvi un giallo del resto non potevo escludere completamente il genere è l'unico che ho proposto che propongo per cui per quest'anno quindi concedetemelo di un autore che ancora non conosciamo non abbiamo conosciuto tutti tutti colori del giallo ma che non mi dispiacerebbe un domani poter conoscere flavio soriga e di cagliari giovane giovanissimo anche se ha già una discreta esperienza aveva aveva scritto un giallo dieci anni fa poi abbazzicato altri generi a alla penna sa raccontare sa magliare sa catturare il lettore e in pratica non lo molla più questa volta è tornato al giallo e lui ha ammesso dopo aver studiato il genere l'ha studiato nel senso che è andato a rivedersi quelle che sono le regole cardine per cui non basta solo inventarsi un morto non basta solo inventare una un'indagine no ci sono delle regole precise che vanno anche rispettate per chi si cimenta nel genere la regola che lui ha rispettato in questo suo metropolis e nulla è come sembra come sembra niente è come appare c'è sempre una realtà che è diversa da quello che noi vediamo ma vediamo alla storia una donna di mezz'età una quarantenne viene trovata ammazzata accoltellata 30 accoltellate in una gabina della spiaggia più esclusiva di Cagliari e qui è il misfatto è il punto di partenza poi cosa succede succede che bisogna andare a scoprire cosa è successo che cosa non è successo già l'identità della donna non è facile non è facile da recuperare poi si viene sapere che è la figlia di una delle famiglie più esclusive di Cagliari è una figlia alternativa una figlia che ha avuto la sua vita che non è andata d'accordo con il padre o comunque veniva rispettata ma comunque ha fatto delle scelte differenti perché perché lei bazzicava poeti maledetti perché lei bazzicava co frequentava dei cantautori alle prime ame insomma una persona che aveva un suo mondo che aveva un suo piccolo cosmo non certamente apprezzata dal padre o dei nonni loro sono discendenti addirittura dei vicere e non hanno problemi economici però è chiaro che una simile vittima non può non fare scalpore soprattutto sui giornali e soprattutto in quella che è la realtà cittadina del cicaleccio cittadino e allora qui comincia l'indagine l'investigatore il poliziotto inventato da soriga è un tipo affascinante è un tipo che gira la città di Cagliari in vespa sembra quasi un nanni moretti è laureato in antropologia e questa sua sua cultura questo suo modo di essere offre la possibilità di vedere Cagliari come non si è mai vista come non si è mai letta effettivamente Cagliari non è mai stata avvicinata con questa sensibilità con questo spessore nella nel mondo letterario nel mondo narrativo e qui è il grandissimo primo merito di flavio soriga o soriga perché metropolis perché perché affrontando la città affrontando la sardegna si è sempre si sono sempre affrontati dei risvolti vuoi la natura vuoi i briganti vuoi la realtà contadina vuoi il mare però la città mai eppure la sardegna ha una città una piccola metropolis e il romanzo appunto ci permette di fare questo viaggio nella metropolis nel quartiere più metropolitano della metropoli della della sardegna devo dire che è un viaggio molto bello ci dà anche la possibilità di conoscere Cagliari come come non l'abbiamo mai vista né conosciuta ma poi soprattutto l'indagine svolta con perizia e con quella chiave di lettura che ha il crisanti trasforma il libro in una in una lettura interessante piaceva io l'ho letto mi è subito piaciuto mi sono subito innamorato sia del protagonista di questo di questo investigatore ma anche della realtà io saluto tutti consigliando un punto metropoli di soriga grazie a tutti